L'Aula approva il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. Via libera maggioranza alla legge per la tutela della qualità dell'aria. Carceri, il garante regionale, utilizzare i fondi dell'Unione Europea per metterle a norma. Covid, primo bilancio del gruppo di lavoro. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati, edizione che apriamo con l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. Continua il contenimento della spesa del Consiglio regionale attraverso un ridimensionamento dei costi della politica e dei costi della struttura che ha anche visto una diminuzione di personale. Il dato emerge dall'illustrazione da parte del Presidente Stefano Allasia del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Piemonte per il triennio 2021-2023, approvato dall'Aula di Palazzo Lascaris con il voto favorevole della maggioranza del gruppo Movimento 5 Stelle e il voto di presenza delle altre opposizioni. Il fabbisogno 2021 ammonta a 48,8 milioni di euro in diminuzione rispetto al previsionale del 2019 che superava i 49 milioni, un fabbisogno che dovrebbe ulteriormente diminuire nel 2022-2023 scendendo a 47,5 milioni. Nel 2010 la cifra ammontava a 74 milioni. Tale contenimento delle spese correnti ormai consolidato consente quindi nel quadro di ampio rispetto degli equilibri generali di bilancio di ottenere un margine ulteriore di entrate correnti da destinare alle spese di investimento. Il quadro del fabbisogno finanziario del Consiglio regionale conferma il trend di spesa complessiva degli ultimi anni distanziamento necessario delle spese di investimento ottenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione e risparmi ottenuti dal contenimento delle spese. Attraverso la razionalizzazione delle risorse proseguono le spese di investimento, oltre 23 milioni, per consentire la manutenzione straordinaria degli immobili di rilevanza storica e artistica delle Consiglio regionale e l'implementazione dei sistemi informatici volta alla digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure amministrative. Approvata a maggioranza la legge per la tutela della qualità dell'aria. Su base volontaria i proprietari di auto piemontesi potranno installare sul proprio veicolo un'apparecchiatura automatica, una sorta di scatola nera, che monitorerà a distanza i chilometri percorsi e lo stile di guida. Con 27 voti a favore della maggioranza, il Consiglio regionale, riunito in videoconferenza con la presidenza di Stefano all'Asia, ha dato il via libera alla nuova legge in materia di inquinamento atmosferico, che modifica la legge 43 del 2000, disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, prima attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Relatrice di maggioranza Letizia Nicotra-Lega. Sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi al traffico veicolare, rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei veicoli, correlandole alle rispettive emissioni inquinanti, consentendo così di individuare modalità di utilizzo sostenibili e conformi con il piano regionale di qualità dell'aria. Relatori di opposizione della legge Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, Domenico Rossi, Partito Democratico e Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle, che hanno fortemente criticato il provvedimento. Mai abbiamo avuto il piacere di ascoltare su un tema una visione su questa regione, uno sguardo, non dico di lungo periodo, almeno di medio periodo. A cosa serve, in parole povere, questo disegno di legge? Serve a far sì che si possano utilizzare, per un numero limitato di chilometri, delle automobili che oggi non si potrebbero utilizzare perché sono inquinanti. Di fatto noi siamo sempre davanti a dei disegni di legge su un tema così importante, impattante, che hanno al centro un'unica ossessione, cioè quello della deroga. L'Aula di Palazzo Lascaris ha approvato le modifiche alla legge sul turismo itinerante, stralciato il garden sharing. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il DDL 85 che modifica la legge regionale sui complessi ricettivi all'aperto e sul turismo itinerante, approvata nel 2019. Come ha spiegato l'assessore Vittoria Poggio, il provvedimento si è reso necessario dopo le osservazioni, i pareri e le impugnazioni da parte di alcuni ministeri, Mibact e interni, e dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Relatore di maggioranza Walter Marin, Lega. A seguito di quelle che sono state, diciamo, le osservazioni impugnative da parte del governo, del Mibact soprattutto, direi che sostanzialmente è stato un adeguamento di quella che è la legge regionale 5 e di recepimento di quelle che erano osservazioni, soprattutto in materia di salvaguardia, di tutela del paesaggio. Relatori di opposizione Raffaele Gallo, Partito Democratico, e Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle. Un testo sostanzialmente tecnico, lasciatemi dire così, e di coordinamento con il lavoro anche degli uffici, di coordinamento del testo complessivo rispetto alla ridisegno e riscrittura di alcuni articoli chiesti dal governo, che rende e permette di rendere operativa la norma. Abbiamo cercato di velocizzare quanto più possibile l'iter, di fatto rimandando tutte quelle che sono le valutazioni politiche sul tema del turismo. Il testo approvato contiene l'emendamento a firma dell'assessore Maurizio Marrone, con il quale vengono inasprite le sanzioni con il sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento insediato in aree non consentite. Aggiunge come sanzione, oltre a quella pecuniaria, il sequestro amministrativo del mezzo, che consentirà quindi alle amministrazioni comunali di riuscire a fermare questi fenomeni di abusivismo, di camper e roulotte, prima che prendano piede e si stabilizzano in insediamenti più ampi e soprattutto irreversibili. Se non ora, quando? Come non pensare di utilizzare parte dei fondi dell'Unione Europea destinati all'Italia per far compiere un salto di qualità alla sanità e all'edilizia penitenziaria? Con questo doppio interrogativo, il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano ha aperto la videoconferenza stampa di presentazione del quinto dossier delle criticità strutturali e logistiche delle carceri piemontesi. Porre con urgenza l'attenzione delle amministrazioni nazionali e territoriali le croniche esigenze e criticità dei 13 istituti penitenziari piemontesi e dell'istituto penale minorile soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria e rilanciare proposte e priorità per il nuovo anno. E quanto è emerso dal quinto dossier delle criticità strutturali e logistiche elaborato dal garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano in collaborazione con il coordinamento piemontese dei garanti comunali presentato in videoconferenza sulla piattaforma del Consiglio regionale del Piemonte. Se non ora quando? Quando intervenire sulle criticità ormai croniche delle strutture penitenziarie? Com'è possibile pensare una efficace ed efficiente politica di rieducazione e di reinserimento dei detenuti in carceri faticenti e spesso in condizioni più che critiche ma illegali? Con Mellano è intervenuta una rappresentanza dei 12 garanti comunali piemontesi mentre le conclusioni sono state affidate al portavoce della Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali Stefano Anastasia. Riunioni serrate, 40 soggetti in audizione. Questo è il primo bilancio del gruppo di lavoro Covid. Il gruppo di lavoro sull'emergenza Covid-19 avviato a settembre si è riunito 12 volte con audizioni di circa 40 soggetti rappresentanti di una trentina di entità. L'attività si è concentrata soprattutto sulla prima ondata della pandemia ma per i mesi a venire contiamo di analizzare anche quanto avvenuto nella seconda fase. Lo ha dichiarato il coordinatore del gruppo di lavoro interno alla Commissione Sanità Daniele Valle illustrando in aula la relazione intermedia sull'attività svolta e che dovrebbe concludersi entro giugno 2021. Il dibattito è stato aperto dall'assessore alla Sanità Luigi Icardi che ha sottolineato la necessità di sollecitare l'unità di crisi per avere quanto dovuto e sottolineando l'impegno delle task force per il rinnovamento della sanità territoriale e ospedaliera. Per il PD sono intervenuti i consiglieri Maurizio Marello e Domenico Rossi che hanno rilevato come alcune carenze evidenziate nella prima ondata si siano ripetute nella seconda. Marco Grimaldi, liberi uguali verdi, ha elencato una serie di criticità ricordando che il Piemonte è stato tra le regioni peggiori per il tracciamento la scarsa difesa del personale medico-sanitario e il rapporto con le RSA. Per la Lega Alberto Preioni ha sottolineato che si è riusciti a curare sia i piemontesi sia i pazienti provenienti da fuori regione. Per il Movimento 5 Stelle Francesca Frediani ha sostenuto la necessità di continuare ad approfondire la situazione nelle carceri e nelle scuole che potrebbero riaprire a breve i battenti. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.